salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere un nuovo drone quello che è il top di gamma per quanto riguarda il marchio hollystone questo marchio di cui ho già portato un altro drone qua sul canale quello randone più entry level mentre oggi andremo a vedere la versione diciamo top per quanto riguarda questo marchio vende direttamente su amazon quindi direttamente hollystone che c'è la possibilità di acquistare i suoi prodotti su amazon quindi abbiamo tutte le garanzie e tutti i vantaggi ovviamente nell'acquistare un prodotto su amazon questo ormai ve lo ripeto sempre già lo sapete che su amazon ovviamente è tutto più semplice tutto più veloce e tutto funziona meglio il drone è un drone ragazzi che vi arriva in questa valigetta e lo vedete qua è un drone che pesa più di 249 grammi ma meno di 500 grammi perché pesa 497 grammi quindi ha dei vantaggi di utilizzo maggiori rispetto ai droni che pesano più di 500 grammi ma ha degli svantaggi rispetto ovviamente ai droni che pesano meno di 250 grammi quindi per essere utilizzato necessita di un patentino base quello a 1 a 3 volare ovviamente norme nella confezione vi arriva il radiocomando che vedremo tra poco da vicino e una seconda batteria e ovviamente le eliche di ricambio e il cacciavite per andare a smontare quindi abbiamo due batterie incluse in confezione con il caricatore che è in grado di caricare entrambe le batterie quindi è veramente comodo e pratico diciamo tutto quello che vi arriva poi sempre nella confezione troviamo questa cartelletta dove abbiamo all'interno il manuale di easa come avevamo anche nella versione quella che vi ho detto prima entry level e qua abbiamo la certificazione c1 c'è la nuova certificazione europea come ho detto anche nell'altro drone loro mi hanno detto che la certificazione è valida infatti anche il drone ha la marchiatura c1 come ho già detto nell'altro video ambasciatore non porta penna loro o le store mi ha detto che il marchio è regolare questo quello che dicono loro quindi abbiamo questo certificato e asa che non vi sto a descrivere se vi interessa sapere cosa dice andate a vedere il video che ho fatto dell'altro modello di ho listo dove ho spiegato bene cosa c'è in questo manuale e asa che troviamo nelle confezioni ho listone poi abbiamo il manuale guardate che bel libretto è raro vedere un libretto di questo livello per un drone comunque diciamo di un marchio lo cost e devo dire che questo manuale ragazzi vedete è in tre lingue di cui ovviamente abbiamo anche l'italiano ed è davvero dettagliatissimo e spiega ogni cosa in maniera spettacolare anche il rettuno tuomo è spiegato in maniera pazzesca in ogni situazione per ogni altezza per ogni cosa veramente un manuale con i fiocchi davvero raro vedere questi manuali nei marchi diciamo cinesi lo cost e poi come vi ho detto nella confezione abbiamo la seconda batteria e le eliche di ricambio e i vari cavi di alimentazione per caricare la batteria poi abbiamo il radiocomando radiocomando secondo me carino per essere un drone di questa fascia di prezzo con un display centrale che ci permette di avere tutti i dati per volare in sicurezza anche se non usiamo lo smartphone ovviamente non siamo obbligati ad utilizzare lo smartphone se vogliamo l'utilizziamo altrimenti no ovviamente essendo un drone che ha una qualità a livello di fotocamera che tra poco vi dirò che tipo di fotocamera monta ovviamente avere lo smartphone vediamo cosa inquadriamo ma possiamo tranquillamente volare senza registrare scattare foto anche senza utilizzare lo smartphone perché abbiamo qua tasto per scattare registrare foto la rotella per inclinare il gimbal perché lui è un drone che non ha un gimbal meccanico è stabilizzato solo elettronicamente ma vi spiegherò tra poco quando guarderemo da vicino il drone abbiamo il tasto per cambiare la velocità del drone perché lui ha più velocità e sempre questo tasto va ad accendere le luci sotto per illuminare il terreno nel caso dovessimo volare al buio tra poco però vi faccio vedere tutto questo comparto tecnico del drone poi qua abbiamo il pulsante del rth quindi per il ritorno a casa qua abbiamo il pulsante che se lo teniamo premuto spegne i motori quindi fa precipitare il drone piuttosto che andare a far male qualcuno o a fare danni e poi qua abbiamo il tasto di decollo e atterraggio automatico mentre qua da parte abbiamo questo interruttore con gps che possiamo attivare e disattivare sì perché lui ovviamente è dotato di gps però è dotato anche di optical flow quindi un drone che può volare anche al chiuso senza avere la necessità di avere per forza il gps quindi se lo lasciamo su gps ovviamente al chiuso non ci darà mai la possibilità di decollare perché non aggancerà mai i satelliti quindi potremo andare a disabilitare il gps potremmo volare anche in aree dove non abbiamo la possibilità di agganciare i satelliti per quanto riguarda invece le batterie abbiamo due batterie doppia che vanno inserite qua dietro ma che non sono incluse nella confezione poi qua sopra abbiamo il supporto per lo smartphone che ovviamente anche inclinabile un po verso l'alto ci stanno smartphone praticamente di tutte le misure e poi è rimasto l'ultimo interruttore che è questo che è il pulsante d'accensione del controller ma adesso andiamo a vedere quello che è il drone ecco qua l'hs 720 e come io ho detto pesa meno di 500 grammi come vedete non ha un gimbal meccanico perché ha una stabilizzazione elettronica e devo dire che funziona davvero bene per chi conosce il marchio mjx secondo me questo drone monta quella stabilizzazione cioè questo drone monta la stessa stabilizzazione mjx che la stabilizzazione elettronica secondo me eccezionale per i marchi cinesi ovviamente low cost per quanto riguarda appunto la loro fascia di vendita di droni e secondo me qua abbiamo la stessa stabilizzazione elettronica devo dire che questo e funziona davvero davvero bene un'altra cosa che mi ha fatto pensare che questo drone ha molto delle mjx è il fatto che l'applicazione sebbene si chiama in maniera diversa alla stessa identica interfaccia delle applicazioni mjx e anche i motori a guardarli ricordano molto i motori montati sui droni mjx e come vi ho detto abbiamo due batterie una è qua nel drone qua abbiamo i quattro led che ci indicano lo stato della batteria e l'altra è nella valigetta quindi abbiamo dichiarati 40 minuti di volo cioè 20 e 20 quindi 20 minuti a batteria e poi qua sotto come vi ho detto abbiamo l'optical flow perché lui è dotato anche di questo sistema e abbiamo i due led qua sotto che possiamo attivare appunto dal radiocomando per illuminare l'area sia per l'optical flow che in fase di atterraggio di decollo con questi led di illuminazione e qua c'è quella cosa che vi dicevo prima la marchiatura c1 non so se la vedete dalla telecamera comunque viene marchiato c1 loro mi hanno detto che è vera e altrimenti non potrebbero vendere in italia su amazon quindi non lo so ripeto ambasciatore non porta pena io ho solo riportato quindi detto tutto questo direi che però adesso è arrivato il momento di provarlo quindi faremo le solite prove di volo overing vediamo come si comporta in overing poi proveremo a fare un po di giri qua con le riprese video e foto perché come vi ho detto secondo me lui è una buona stabilizzazione elettronica anche se non è dotato di gimbal e poi proveremo le reti h vediamo come si comporta nel return to home quindi proviamo tutte quelle funzioni principali che rendono un drone più o meno interessante quando lo si va acquistare perché se queste cose basi non vengono fatte bene già il drone potrebbe non essere interessante è una cosa che mi stavo dimenticando che sicuramente però è un dettaglio importante è il prezzo lui come vi ho detto è venduto direttamente su amazon però secondo me al prezzo un po alto con il coupon sconto che amazon ci fa applicare nella pagina d'acquisto arriviamo intorno ai 330 euro e secondo me il prezzo è un pochino alto è vero che acquistato su amazon è vero che abbiamo due batterie è vero che appunto acquistandolo su amazon non si può avere gli stessi prezzi che si hanno negli store cinesi che ci danno dei prezzi più bassi però con tempi di consegna lunghi se abbiamo problemi tutto un casino nel senso che l'assistenza non c'è tutte queste cose mentre acquistato su amazon ci abbiamo sempre comunque qualcuno che risponde nel caso non risponda direttamente ho listone anche se ho listone vendendo direttamente su amazon risponderà lei direttamente come marchio però c'è sempre amazon che ci protegge in tutti i nostri tafferugli con i venditori quindi mettendo insieme un po tutto ovviamente il prezzo diciamo non basso è giustificato per tanti versi appunto poi vendendo direttamente qua in italia però secondo me è un pochino alto questa forse la parte più dolente di questo drone quindi detto tutto questo iniziamo il test di questo ho listone hs 720 e allora andiamo a connetterci alla rete wifi del drone quindi entriamo in impostazione wifi aspettiamo che venga trovata la rete creata dal drone eccola qua ho listone ace quindi ci andiamo a connettere a questa rete wifi dopo di che usciamo e andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama o feglia facciamo enter device vediamo che adesso entriamo subito nell'applicazione vedete che la videocamera sta già inquadrando il landing e vedete che l'interfaccia è praticamente identica a quella dei prodotti mgx e abbiamo già 13 satellite molto veloci nell'agganciare i satelliti infatti vedete che abbiamo la già la barra verde che ci dà la possibilità di decollare qua nell'ingranaggio abbiamo tutte le impostazioni ovviamente andiamo a disflegare lo sfleghino azzurro ed ecco che abbiamo ovviamente tutto al massimo ovviamente calcolate che questi droni non possono andare a distanze assurde anche perché per normativa dobbiamo andare al massimo 250 metri poi comunque il ritorno video lo andiamo a perdere se andiamo oltre comunque quella distanza probabilmente lo perdiamo già prima l'rth andiamo ad impostare un'altezza di almeno 50 metri quindi il massimo che ci dà di possibilità e qua abbiamo impostato tutto andiamo nella camera possiamo scegliere 1080 santa fps o 4k qua abbiamo la possibilità di formattare l'S di card e a questo punto siamo pronti a decollare vedete che ha rilevato il punto di decollo quindi ha memorizzato questa posizione quindi ci viene buono per quanto riguarda l'rth e una cosa che volevo fare era calibrare la bussola quindi entriamo in sensor status andiamo a fare calibration quindi ci dà la possibilità di calibrarla andiamo a far girare il drone in questa posizione adesso andiamo a farlo ruotare in questa posizione perfetto abbiamo calibrato la bussola calibratela sempre perché soprattutto con questi droni low cost cioè non questi della holliston in generale per i droni low cost calibrate sempre la bussola perché è molto importante perché loro vanno spesso in scalibrazione di bussola quindi abbiamo 15 satelliti tutto è pronto direi che possiamo andare a decollare per decollare semplici basterà premere una volta il tasto con lucchetto avviamo i motori e andiamo a cliccare il tasto di decollo e vedete che tutto in automatico l'overing è direi che molto buono perché comunque lui ha l'optical flow ha il gps quindi ha veramente tutto quello che serve per essere un drone di buon livello per quanto riguarda la stabilizzazione di volo quindi l'overing è sicuramente promosso e adesso proviamo a fare un piccolo giro qua e vediamo il suo comportamento questo suo comportamento di volo devo dire bello qua siamo nella modalità quella più lenta che però è quella secondo me che ha più senso perché comunque lui è dotato solo di stabilizzazione elettronica come abbiamo detto quindi non ha senso andare a manetta se dobbiamo fare dei video andiamo a manetta se dobbiamo divertirci altrimenti è sicuramente meglio non andare a manetta poi adesso lo facciamo ritornare verso di me siamo così contro sole così siamo contro sulla manetta che vi faccio vedere anche come si comporta la videocamera contro sole ovviamente fa molta fatica a andare contro sole adesso mi giro da questa parte vado verso i cavalli la mia solita location quindi faccio bene o male sempre gli stessi percorsi ricordatevi che avendo la stabilizzazione elettronica il drone ha diciamo appunto una buona resa dal punto di vista dei video se pilotate il drone in maniera fluida il suo punto debole e quando fate virate troppo secche o quando frenate tipo adesso se io lascio freno vedete che ovviamente non c'è la stabilizzazione meccanica del gimbal che ammortizza il movimento del drone quindi la stabilizzazione elettronica funziona bene ma come tutte le stabilizzazioni elettroniche di questi doni soprattutto lo coste funziona bene quando il drone fluido nel movimento quindi quando si viaggia dritti quando si fa curve abbastanza morbide quando si vira in maniera brusca o meno in quel punto la stabilizzazione non riesce a compensare quindi quel pezzo poi andrà tagliato in fase di editing adesso volevo farvi scattare che qualche foto quindi come abbiamo detto con la rotella qua del gimbal possiamo andare ad inclinare la videocamera vedete il movimento della videocamera quindi vado a scattare la foto una l'ho scattata così mi giro da questa parte una più verso di me mi vedete lì in basso piccolissimo perché mi centro un po perfetto e foto facciamo ripartire il video e vediamo il suo comportamento ancora un po per quanto riguarda appunto i video come abbiamo detto lui ha l'rth quindi se la batteria si dovesse scaricare fa ritorno automatico e quando si va a sconnettere fa il ritorno automatico quindi abbiamo tutte le sicurezze del caso ovviamente adesso me ne sono nato molto lontano siamo ad una distanza di 217 metri e ritorno video c'è ancora è questo ragazzi non era sottovalutare perché comunque a 223 metri avere ancora il ritorno video è in questi droni lo costa e tanta roba ve lo garantisco non è così scontato è dal punto di vista del volo è davvero davvero fantastico perfetto adesso ritorno qua verso di me eccolo qua vado alza la telecamera adesso proviamo quello che è il follow me perché comunque lui ha il follow me quindi seguirà il gps del dello smartphone vado in queste impostazioni perché abbiamo il follow me l'orbita e la modalità senza testa queste sono le tre funzioni che ha questo drone è inutile avere mille funzioni inutili nei droni lo costa e secondo me è meglio averne tre fatte in maniera decente che avere cinquantamila inutili e qua ne abbiamo tre e ragazzi funzionano dignitosamente quindi vado ad attivare il follow me vado a tirare questo slide e lui adesso ha agganciato il controller vedete che abbiamo il quadratini azzurri vuol dire che siamo in modalità formi ovviamente follow me vuol dire che lui segue questo e non segue il soggetto quindi non mi tiene inquadrato con la videocamera con la videocamera dobbiamo rimanere inquadrati noi quindi andrebbe messo ad un'attezza più alta per comunque avere la possibilità di tenermi inquadrato quindi in questo momento mi inquadro ma sono io che mi inquadro e vediamo cosa fa è vedete che arriva e qua sopra adesso si girerà per seguirmi però sarà sempre un seguirmi ovviamente come abbiamo detto non con la videocamera vado ad alzare la videocamera io perfetto e vediamo se riesco un po ad inquadrarmi adesso lui è girato da quella parte aspettiamo che si gira veramente verso di me ok quindi vado ad alzare la videocamera quadrati però è quindi mi sposto di qua adesso vedete che lui si gira perfetto e arriva anche se corro dovrebbe arrivare ovviamente vedete che se corro veloce esco dall'inquadratura perché lui non inquadra il soggetto ma arriva sta arrivando poi rischiacciamo i quadratini e rischiacciamo il simbolo follow me andiamo a disabilitarlo quindi adesso lui è totalmente ancora nelle nostre mani l'altra funzione è l'orbit quindi andiamo a cliccare su orbit mi allontano perché comunque sono vicino a questa pianta quindi mi allontano di default lui farà un raggio di 5 metri che è possibile andare a modificare nelle impostazioni però è modificabile solo prima del decollo durante il decollo non si può modificare assolutamente nulla quindi mi allontano un po qua vado ad attivare sempre con lo slide e lui vedete che inizia a girare intorno a me guardate che spettacolo nel senso che ovviamente come anche qua la telecamera non tiene inquadrato il soggetto lui gira intorno al controller e allo smartphone però vedete come lo fa bene se vi siete centrati all'inizio bene o male lui vi tiene centrati e per andare a interromperlo andiamo a cliccare ancora i puntini blu perché comunque lui altrimenti continua a girare all'infinito e adesso direi che possiamo provare l'rth quindi mi allontanerò circa 200 metri e andiamo ad attivare l'rth quindi saliamo di quota ok siamo a 60 metri d'altezza ci allontaniamo arriviamo circa fino a 200 metri e poi proviamo l'rth vediamo come si comporta 180 il ritorno video ancora bello fluido e guardate come ancora bello fluido ok siamo a 200 metri vedete quando frenate come la stabilizzazione ovviamente non tiene e andiamo ad attivare l'rth quindi e vedete che nel display il simbolino dell'rth è diventato azzurro quindi adesso lui farà tutte le sue code fino a che inizia a ritornare anzi sta già ritornando lo vedo la perfetto vediamo il suo comportamento verso il padre ovviamente è una cosa simbolica anche se arriva qua quali va sempre bene questo solo per dimostrare quanto è preciso un drone low cost nel ritorno a casa nell'area di decollo che è la cosa importante allora non so bene dove sia perché c'è il sole contro proprio sopra di me vediamo potrebbe essere interessante per andare a interrompere l'rth basterà andare a cliccare il simbolo dell'rth quindi andrete ad interromperlo quindi nel caso stia atterrando magari in un'area che non è perfetta per l'atterraggio potete interromperlo quindi vediamo dov'è è qua sopra vado ad abbassare la videocamera e così magari abbiamo un riferimento verso il pad inquadrato dalla videocamera perfetto ci siamo vediamo sta arrivando qua eccolo qua vado ad interromperlo l'ho interrotto è qua e scendo io manualmente giusto per dare un rapporto alla distanza allora lui è lì e il padre qui quindi c'è più o meno vediamo è uno è meno di due metri c'è meno di due metri quindi secondo me è più che ottimo per appunto avere un rrth di sicurezza è una cosa che ragazzi guardate quanto a batteria abbiamo ancora ancora tantissima e ho volato davvero tanto perché ovviamente voi non avete visto i pezzi che ho tagliato dove magari mi sono impappinato a parlare quindi ho dovuto ripetere quello che dicevo e ragazzi secondo me a 20 minuti ci arriva davvero tanta tanta roba calcolando che ne abbiamo pure due di batterie secondo me 40 minuti li abbiamo tutti tutti è davvero tanta roba complimenti per quanto riguarda il consumo della batteria quindi adesso atterraggio classico comportamento alla mjx questo tipo di atterraggio mjx fa sempre così a terra si rialza e poi a terra quindi ha davvero tanto di mjx secondo me ha quasi tutto di mjx però il risultato dal punto di vista finale delle prestazioni è sicuramente tanta tanta roba un comportamento ottimo in tutto avete visto veramente veramente impeccabile quindi ragazzi cosa dire di questo hollystone hs 720 e che è secondo me molto molto sicuro in tutto vola benissimo avete visto un comportamento ottimo preciso quindi non fa mai cose strane l'rth ottimo comunque un paio di metri dal pad ed era 200 metri di distanza 70 metri d'altezza e anche la batteria pazzesca guardate abbiamo ancora tre tacchette su quattro quindi davvero incredibile volato un sacco di minuti secondo me ne fa anche di più di 20 minuti la stabilizzazione avete visto in 4k a 30 fps è buona quando il drone ovviamente non fa cose assurde dal punto di vista dei movimenti ma questo è la stabilizzazione elettronica è così nel senso finché si vola bene se la stabilizzazione è buona le immagini sono buone però quando ovviamente si fa frenate brusche accelerate brusche o virate brusche e lì quel pezzo lì è da tagliare ma quello è impossibile ovviare a diciamo quelle situazioni con la stabilizzazione elettronica soprattutto di un drone love coast che comunque davvero ottima a mio parere sapete che anche abbastanza silenzioso per comunque le dimensioni del drone presso un drone importante devo dire che anche abbastanza silenzioso quando si è a 30 metri praticamente non si sente nemmeno volare e quindi ragazzi nel complesso rimane davvero un ottimo ottimo prodotto l'unica pecca rimane il prezzo secondo me un po alto per quello che comunque la fascia love coast che dovrebbe essere per questi marchi rimane diciamo un po penalizzante per questo drone che sicuramente molto molto valido e poi come vi ho detto acquistato su amazon acquista ancora più valore per tutte le sicurezze sia pre vendita che post vendita però sicuramente qualcosina in meno sul prezzo gli darebbe quel plus in più per essere un drone davvero ottimo acquistato appunto su amazon e non negli store cinesi quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato la mia recensione e le mie opinioni riguardante questo holly stone hs 720 e vi è piaciuto e vi è stato utile e lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tantissime cose interessanti tantissimi spoiler delle location dove vado a far volare i droni dei prodotti che arriveranno qua sul canale youtube sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon scontri riguardanti i droni tutta la tecnologia in generale anche di lui se ci saranno dei coupon scontri lasciati da holly stone li troverete sicuramente nel mio canale telegram offerte ma anche qua sotto in descrizione ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video